Salut les gars! Eccoci qui tornati sul canale in occasione dell'uscita di Grand Hotel. Allora ragazzi, io prossimamente pubblicherò tutte le reaction, ma volevo farvi un video introduttivo per guidarvi nella lettura di Grand Hotel, quindi presentarvi più o meno a grandi linee di cosa si tratta, la drama, i personaggi, insomma farvi una panoramica generale. Prima cosa interessante da sapere su Grand Hotel è che è nata come serie tv spagnola, è stata trasmessa fra il 2011 e il 2013 e conta tre stagioni. Seconda cosa da sapere su Grand Hotel è che esistono vari remake. Esiste il remake egiziano, che è quello che ho visto io, più o meno quasi tutto, però non volevo farmi troppi spoiler quindi non l'ho ancora finito. Esiste quello americano e adesso esiste quello francese. Noi ovviamente ci occuperemo più di quello francese perché è quello che ci interessa e quello che poi vedremo insieme. Allora, parliamo un po' di che cosa succederà nelle prossime settimane. Allora, il rifacimento francese conta otto episodi. Ne saranno trasmessi due ogni giovedì, quindi durerà molto poco ragazzi. Sarà proprio come strappare un cerotto, però sarà molto interessante perché questo delle film è davvero super accattivante, ve lo giuro. Spero che il remake francese sia all'altezza di quello egiziano che ho già visto, però ne sono certa perché comunque ogni remake ha il suo fascino e non mi aspetto altro che perle da questo delle film. Parliamo un po' della trama. Il nostro protagonista è Anthony Costa, un 25enne, che arriva al Grand Hotel in cerca di risposte sulla sorella Amélie, misteriosamente scomparsa. Quando arriva al Grand Hotel gli viene detto che la sorella è stata licenziata perché è accusata di furto. Anthony però non si lascia convincere da questa versione dei fatti perché non si aspetterebbe mai un atto del genere della sorella e quindi decide di restare al Grand Hotel infiltrandosi un po' nella servitù e quindi decide di essere assunto come cameriere. Anthony nel Grand Hotel fa la conoscenza di Will, che è il figlio del capo del personale ed è proprio il personaggio interpretato dal nostro Maxence. Anthony comincia a girovagare nell'hotel perché non si può dire che inizia proprio a lavorare perché è un vero disastro, ma fa la conoscenza della nostra Margot. Margot è una delle figlie dell'attuale proprietaria dell'hotel, promessa sposa di Sam Mogador, l'attuale direttore dell'hotel. Anthony scoprirà vari misteri in questo hotel, vedremo come la relazione con Will crescerà mano a mano che gli episodi andranno avanti. Ragazzi non vi svelo altro perché questa serie di V lascia sempre col fiato sospeso e vi farà venire voglia di guardarla sempre di più, puntata dopo puntata. Detto questo io vi lascio al prossimo video e quindi alla prima reaction. Bisù!